Sì, ancora una volta simbola centrato in pieno quello che è il tema che è forte in questo momento, in questo territorio, indubbiamente quello di ricostruire le comunità superando le paure, superando quello che è il senso di solitudine e oggi la sfida più grande che abbiamo avanti perché solo attraverso questo elemento potremo andare a dare una prospettiva e un futuro a quelle comunità che oggi vivono indubbiamente una situazione pesante e drammatica. È quello che stiamo facendo noi con le nostre attività, da sempre ci occupiamo ovviamente di comunità, a maggior ragione non potevamo che farlo adesso, comunità scolastiche, comunità di volontari, comunità anche economiche che stiamo cercando di accompagnare attraverso delle attività che poi racconteremo durante il seminario estivo.